Tornano i colori e i carri del Carnevale di Corsano oramai alla 31esima edizione. Il 10-12 febbraio una grande sfilata invaderà il centro del comune del Sud Salento, ma non mancano le novità annunciate in conferenza stampa a Palazzo Adorno. La più importante riguarda il sistema rete, ossia i comuni del Capodileuca in sinergia per far crescere una manifestazione con numeri da capogiro. Il Carnevale di Corsano rappresenta anche il Carnevale di tutto il Capodileuca e questo è un risultato importante in termini di metodo di lavoro perché lo stare insieme consente di poter valorizzare al meglio alcuni eventi ed evitare anche forme inopportune di concorrenza tra paesi, tra comunità che hanno tradizioni importanti. è la 31esima edizione e debbo dire che cresce notevolmente di anno in anno, ci sono cifre veramente importanti. Il Carnevale di Corsano è fra le manifestazioni più prestigiose del territorio in questo periodo dell'anno e ha la capacità di coinvolgere e far crescere anche i giovani. Sì, perché le scuole di Corsano saranno impegnate nell'allestimento di un carro che sfilerà. Il 17 è poi tutti in piazza per una grande festa. I vari comuni del Capodileuca ci siamo messi in rete e tutti insieme organizzeremo questa grande manifestazione perché abbiamo capito che un piccolo comune di 5.000 abitanti non può reggere molto con queste iniziative così importanti per cui tutti insieme, tutti i comuni del Capodileuca, 7 comuni, ognuno farà la sua parte.